Da 30 anni, Telemolise conserva e custodisce con cura e con amore tutte le tradizioni della sua terra, le sue piccole e grandi gioie, i suoi piccoli e grandi dolori, le sue piccole grandi conquiste. Da 30 anni, Telemolise è al fianco del sud, dei lavoratori, dei diversamente abili, degli anziani, degli ammalati. Telemolise è contro i pregiudizi, contro l'arroganza del nord, contro la chiusura degli ospedali, contro i licenziamenti, contro l'abbandono degli animali. Telemolise è un campo sterminato e deserto, un tramonto sul mare, un castello, un affresco, un trattore che ara i nostri campi, una donna che impaglia il grano stancamente, un operaio che attende il suo destino, il verso di una poesia, la pagina di un libro, un cane che vaga senza meta, un segreto, il sorriso di tanti bambini. Lo abbiamo detto molte volte e non ci stancheremo mai di ripeterlo. Gli uomini passano, Telemolise resta.